Dopo le recenti dichiarazioni di Bernanke sono proprio cambiati tutti i paradigmi consolidati lungo questi anni di depressione, come avete interpretato le parole del numero 1 Fed? L'interpretazione è stata un'interpretazione comunque positiva, che va nella direzione giusta secondo gli ultimi orientamenti che il mercato stesso ha espresso. Ritengo che il tema del quantitative easing o del perpetuarsi della liquidità a favore del mercato nell'ottica di favorire una crescita rimanga comunque ancora sul tavolo, nonostante Bernanke abbia in qualche modo così annunciato che le cose potrebbero in qualche modo nel futuro cambiare. La nostra interpretazione è che questo non accadrà prossimamente, nell'immediato futuro, che è un po' spostato nel tempo. Noi siamo dell'idea piuttosto che questo possa succedere più verso il 2015, anche in ottica di una revisione dei tassi probabilmente a rialzo, anche se il mercato in questo momento, guardando la curva forward, come si dice in gergo, esprime un rialzo dei tassi già alla metà del 2014. Ripeto, la traiettoria della crescita economica americana, dal nostro punto di vista, non è ancora ben tracciata, ben individuata e quindi riteniamo che tutto sommato questo possa comunque perpetuarsi nel tempo ancora un po' più in là rispetto a quello che il mercato sta in questo momento così scontando. Dopo un inizio 2013 di forte ripresa, i mercati globali hanno recentemente mostrato dei rallentamenti. Cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi sei mesi? Anche qui, al di là di quello che è successo del fenomeno così specifico, particolare di momento del mercato, noi siamo soliti a osservare i fenomeni da un punto di vista un po' più allargato, di più ampio respiro. Il tema principale credo sia quello di sperare finalmente in un possibile arresto del cosiddetto intervento sul mercato risk on, risk off. Questo però al momento rimane soltanto una speranza, non abbiamo visto grossi flussi né entrate né in uscita. C'è chi diceva che ci sarebbe stato una grande rotation, una rotazione dell'allocazione di capitale dal mercato obbligazionario a quello azionario. L'azionario è andato bene, ma non abbiamo visto flussi significativi da questo punto di vista. Era piuttosto, diciamo, non tanto una migrazione dal mercato obbligazionario in favore di quello azionario, ma piuttosto di liquidità che al momento era stata parcheggiata e quindi poi utilizzata in questo senso. Riteniamo che i prossimi mesi siano comunque dei mesi da osservare. La volatilità sul mercato rimarrà elevata. Quindi da questo punto di vista consigliamo un'allocazione del portafoglio che possa prevedere da un lato una diversificazione e dall'altro anche sperare una correlazione inferiore tra le varie asset class. Voglio fare un esempio giusto per citare perché credo sia importante. Noi riteniamo che proprio dalla correlazione tra le asset class avremo poi, come si suol dire, l'annuncio del cambiamento e quindi di una possibile rotazione. Nel momento in cui anni fa si pensava così che il tasso di interesse potesse salire, l'investimento nel mercato azionario andava specificatamente a riferirsi ad alcuni settori e non ad altri. Se noi osserviamo i 10 settori della Standard Poor's 500, l'issena americano, notiamo che per esempio l'anno scorso la correlazione tra i vari settori era veramente molto elevata, superiore all'80%, mentre qualche anno fa era al 56%. Non solo, la correlazione tra azioni americane e azioni del resto del mondo è anch'essa alta, sopra il 70%, addirittura la correlazione tra junk bonds, quindi titoli cosiddetti spazzatura, e l'S&P 500 è sopra il 60%. Ecco, qui questo è indice del fatto che rotazioni non ce ne sono, si vive ancora in una situazione evidentemente di estrema liquidità e da questo punto di vista guardiamo soprattutto la volatilità del mercato. Secondo la vostra recente indagine, l'85% degli investitori istituzionali italiani ritiene che la popolazione non abbia abbastanza risorse finanziarie per mantenere un livello di vita adeguato in età pensionabile. Può commentarci brevemente i risultati di questa indagine? Direi da questo punto di vista alcuni elementi importanti a nostro avviso. Il primo è sicuramente quello più determinante che annuncia una situazione tra virgolette preoccupante, 85 investitori intervistati su 100 ritengono che la popolazione non abbia sufficienti risorse a disposizione per far fronte agli impegni futuri, per far fronte a quello che è il momento in cui dovrebbero essere in pensione. Ma questo d'altro canto è anche un elemento che forse poteva essere così già di facile interpretazione e tutto sommato naturale che sia emerso in questi termini anche se può sembrare d'armatico. Il fatto che il sistema previdenziale avesse necessità di un'integrazione non è un fatto nuovo. Ovviamente oggi c'è la presa di coscienza, c'è la constatazione, con un dato di fatto che questo è diventato ormai una realtà, complice evidentemente da un lato il welfare stesso che fa fatica a seguire un po' quelle che sono le esigenze del cittadino, della società, dall'altro lato sicuramente anche le crisi economiche di questi ultimi tempi. Al di là di questo però alcuni fattori che noi riteniamo positivi, se non addirittura estremamente positivi che sono emersi dall'indagine, è che ad esempio oltre il 60% degli addetti ai lavori, quindi degli investitori intervistati, 60 su 100 un elemento comunque molto significativo, hanno preso atto della necessità, proprio per questa situazione, per questa esigenza di modificare l'approccio alla gestione, e quindi l'asset allocation va comunque interpretata secondo una nuova modalità più moderna, che abbia più aderenza con i fenomeni di mercato che si sono verificati negli ultimi anni e che abbiano poi la possibilità di costruire portafogli più robusti, più resistenti. Da questo punto di vista dicevo, oltre il 60% ha già adottato delle tecniche cosiddette in gergo LDI, quindi che così l'approccio che va a considerare non soltanto il rendimento in sé, ma un rendimento che è basato anche su quelle che sono le necessità future, quindi che dà un occhio alle passività. Da questo punto di vista si può certamente costruire un portafoglio che abbia un senso in un'ottica previdenziale, che abbia maggiori opportunità di rispondere alle necessità, alle esigenze di cui parlavamo prima. Quindi da un lato un sistema previdenziale, ma dall'altro posso dire che può essere steso anche a tutti gli altri investitori. Faccio un esempio pratico. Oggi si ha anche paura di non riuscire a far fronte a quello che potrebbe essere il desiderio di concedere ai propri figli un livello di educazione scolastica adeguata. Quindi sicuramente va nella direzione giusta. Ecco, siamo contenti. L'altro è l'ultimo elemento che vorrei citare, che anche da questo punto di vista, diciamo sempre riferendoci ai portafogli, nell'ottica di una costruzione, diciamo di un servizio, di un portafoglio che abbia maggior capacità di resistenza ai fenomeni di volatilità del mercato, che recentemente è ovviamente completamente cambiata e rimarrà elevata nel corso dei prossimi anni, è il fatto che il 70% circa degli intervistati ha comunque compreso e si è dichiarato disponibile di inserire all'interno dei portafogli i cosiddetti strategie alternative, dove per alternativo non si intende chiaramente diciamo il fondo edge, a volte si tende in qualche modo ad assimilare erroneamente la parola alternativa al fondo edge, ma piuttosto introdurre nel portafoglio possibilmente quelle asset class che hanno una minore correlazione fra di loro e quindi la diversificazione in quest'ambito avrebbe maggiore concretezza. Questi sono gli elementi che a nostro avviso così maggiormente da far emergere.